Benvenuti alla visita virtuale del centro di recupero. Loro due sono Otto Pseil e Luce. Otto è arrivata da noi ad ottobre dell'anno scorso, l'abbiamo trovata in un terreno fatiscente, abbandonata a se stessa, era ormai diventato uno scheletro che non riusciva più a reggersi in piedi. Aveva una profonda ferita nel posteriore e appena arrivata da noi sono iniziate cure e cibo integrativo per poterla rimettere in sesto. Luce invece è arrivata da noi circa un mese fa, anche lei è stata trovata abbandonata quasi nel terreno di un privato che non riusciva più a mantenerla, anche lei molto magra e siamo riusciti a sequestrarla in un tempo molto breve e arrivate da noi anche lei ha iniziato un percorso di reintegrazione per rimettersi in sesto. Loro due come vedete hanno legato molto, sono diventate molto avicche e si sono integrate con il branco dei vecchietti. Adesso stanno benissimo e si godono le giornate qui da noi al centro di recupero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per essere stati con noi, ricordatevi che IHP non prende soldi pubblici e che quindi per far continuare questa bellissima vita a queste due cavalle ricordatevi di donare. Continuiamo adesso con la visita guidata virtuale, ci vediamo con i prossimi ospiti.